un saluto ai clienti e agli amici della tabaccheria marini presentiamo ora carrellata della nostra collezione di pipe alfrettani come vedete potete trovare una discreta scelta delle varie forme e delle varie linee della linea white spot collection prendiamo questo primo piano dei più bei pezzi in collezione white spot collection gruppo 4 classica pippa sabbiata rigorosamente con un bocchino in ebanite una canadese sempre gruppo 4 ring grain rigorosamente made in ingland un primo piano sulla lavorazione della sabbiatura ben tabling pezzo importante un fornello decisamente ampio per buone fumate shell briar collection pippa collector numerata un primo piano sempre sulla sabbiatura e lavorazione serie bruyere classico color ciliegio in finissaggio liscio le classiche billiard quelle che hanno fatto famosa la mesona trovate anche dei pezzi particolari ruby back con questo color rubino molto particolare una quanta gruppo 3 con vera in argento 925 smontiamo anche il bocchino per notare il classico filtro in alluminio che arriva fino alla foce del fornello pezzo molto particolare una piccola bulldover dritta una finitura di una bellissima radica affiammata color noce serie bruyere gruppo 3 una piccola pippa da passeggio un evergreen le classiche billiard le più amate dai collezionisti e dai pippatori collezionisti e briar con filtro 9 mm molto rara la filtrata l'altro pezzo difficile da reperire nel mercato le pannellate sempre collezione shell gruppo 4 per questa bella billiard pannellata 925 vera in argento massiccio per questo gruppo 4 in tiratura limitata 1025 per questa bella 1025 per questa bellissima daniel gruppo 4 la tabaccheria marini vi ringrazia e vi aspetta per qualsiasi vostra esigenza o richiesta un saluto a tutti e arrivederci un saluto a tutti 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 un saluto a tutti